Le dimissioni del vicepresidente di IREN SPA Luigi Villani e le dimissioni dell'intero CDA di IREN Emilia sono propedeutica al cambiamento all'interno della multi-utility. Diverse centinaia di persone oggi hanno dato l'ultimo saluto a Prospero Gallinari, tra i presenti anche molti ex brigatisti, tra cui Renato Curcio. La procura di Reggio indaga sulla morte di un anziano per soffocamento al Santa Maria Nuova. Il 71enne aveva problemi di deglutizione, trovato morto con in gola del prosciutto. Lo sci alpinista salvato dalla slavina che lo aveva travolto lo scorso 16 gennaio rischia fino a 5 anni di carcere e per gli inquirenti ha provocato la valanga. Nella frazione di Arceto di Scandiano la tabaccheria del centro ha eliminato le videoslot per non rovinare economicamente i concittadini. Da 4 Castella Reggio Emilia è sequestrata marijuana in casa di quarantenni insospettabili che spacciavano a dei minorenni. A Correggio montano le proteste per le marche da bollo per le richieste dei permessi per girare in zona. Traffico limitato. Buonasera e bentrovati con l'informazione di ETV Teletricolore che non può che aprirsi con l'inchiesta Parmenze Public Money. Le dimissioni del vicepresidente di IREN SPA Luigi Villani e le dimissioni dell'intero CDA di IREN Emilia sono propedeutiche al cambiamento all'interno della multiutility. Queste le ultime novità ce ne parla Giovanni Mazzoni. Dimissioni a raffica per quanto riguarda IREN. Dimissioni per un cambiamento reale, per modificare l'assetto che governa in questo momento la multiutility. Luigi Villani, vicepresidente di IREN e coinvolto nello scandalo parmigiano, si è dimesso e con lui anche il consiglio di amministrazione di IREN Emilia. Questo per forzare ovviamente la posizione del presidente Angelo Buzzi, anche lui indagato a Parma. Intanto arrivano anche delle novità che riguardano direttamente il procuratore La Guardia che ha rimarcato come sono spuntate delle copie dei suoi estratti conti bancari fra le carte sequestrate nell'abitazione di Luigi Villani. Appunto uno dei 24 indagati per peculato e corruzione. Intanto sul fronte diciamo così gestionale le dimissioni del consiglio di amministrazione di IREN Emilia aprono le porte a un'assemblea straordinaria dei soci che possano presentare una nuova lista di amministratori e poi approvarla portando così di fatto un nuovo vertice ed un nuovo CDA a guidare la multiutility emiliana. Il prossimo consiglio di amministrazione sarà nominato il 28 di gennaio. Cambiamo argomento e adesso ci occupiamo dei funerali dell'ex brigatista Prospero Gallinari perché è stata tanta la partecipazione delle persone che appunto hanno voluto dare l'ultimo addio a Gallinari e cominciamo con questo servizio che ripercorre un po' le tappe della giornata di oggi quando è iniziato a nevicare a Reggio Emilia. Sono iniziati i funerali di Prospero Gallinari. Onore a Prospero Gallinari! La rivoluzione è un fiore che non muore. Con questo slogan e la frase fine di una storia, la storia continua, con tanto di falce e martello anche sulla bandiera rossa che ha avvolto il ferretro e le note dell'internazionale, diverse centinaia di persone oggi pomeriggio si sono strette nell'ultimo saluto all'ex brigatista Prospero Gallinari, protagonista degli anni di piombo tra il 70 e l'80. Fu nel commando armato del sequestro e dell'assassinio del leader della DC Aldo Moro. Per l'addio a Coviolo, oltre ai giovani dei centri sociali, anche un folto gruppo di ex brigatisti accorsi da ogni parte d'Italia. Erano attesi e non hanno tradito l'attesa. Tra questi Oreste Scalzone, Salvatore Ricciardi, Tonino Loris Paroli e Renato Curcio. A voler scattare una fotografia che li raccogliesse in un unico scatto tutti insieme, si sarebbe consegnato alla storia un documento unico questo pomeriggio. Fisicamente molto diversi dai ritratti di più di 40 anni fa, ma a livello ideologico poco distanti dalle posizioni di quegli anni fatti di delitti politici. Quasi tutti hanno espresso un pensiero per Gallinari. Alle nostre telecamere, con le lacrime agli occhi, Curcio ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione, spiegando di essere presente a titolo personale. Scalzone e anche Paroli, invece, hanno proprio voluto ricordare la coerenza di Gallinari che, come molti di loro, non ha mai rinnegato il proprio passato. Che non si è mai lasciato estorcere una confessione di innocenza. Con un'idea precisa di combattere il capitalismo è per una società di uguali e di parità senza guerra e senza spese militari. A chiudere la cerimonia, le note, dicevamo, dell'internazionale, chieste da un commosso avvocato, Weiner Burani. E prima di fare il punto su quello che la morte di Prospero Gallinari rappresenta, e ascoltiamo in questa intervista le parole di un altro ex brigatista, Salvatore Ricciardi, che con Gallinari ha diviso il carcere romano. Oggi era a Reggio. Non ci sono parole di un ricordo così, di un compagno, con cui abbiamo diviso tante cose, sia l'attività esterna, sia il carcere. Tanto carcere abbiamo fatto. Ecco, a distanza di tanti anni, comunque sia, qual è la sua opinione oggi? L'opinione è di alcuni compagni, alcuni ragazzi giovani che si sono ribellati all'ordine che non poteva essere accettato assolutamente, così come oggi si è dimostrato con la realtà drammatica che viviamo. Quindi, secondo lei, oggi potrebbe ripresentarsi un caso così estremo? Oggi dipende dalle nuove generazioni, devono fare loro quello che devono fare. Noi non abbiamo fatto, è finita, la nostra storia è finita. Adesso dipende da loro, dai giovani. Cosa significa salutarlo col pugno chiuso? È un vostro saluto? Un ricordo, un'identità pugnosa significa lotta. È un ricordo del compagno che ha sempre lottato fino all'ultimo giorno e così più o meno noi che si trova qui a questa stessa volontà di continuare a lottare contro gli soprusi, lo sfruttamento, le ingiustizie nei modi con che ciascuno ritiene giusti, però lottare sempre. Il pugno è il simbolo della lotta, niente più. E adesso, come anticipavo prima, sentiamo il commento del direttore Giovanni Mazzoni sulla morte appunto di Prospero Gallinari. Al cimitero di Coviola si compie l'atto conclusivo della storia delle Brigate Rosse. Con Prospero Gallinari, infatti, scompare l'ultimo testimone diretto della tragica vicenda di Aldomoro. Se una verità poteva ancora essere scritta e la si doveva scrivere, Gallinari poteva farlo. Non lo ha fatto. Forse lo avrebbe potuto fare, ma la morte improvvisa per infarto non ha permesso quello che in molti casi è l'ultimo testamento. Da Costa Ferrata, dove la storia delle Brigate Rosse è inizio al cimitero di Coviolo, poco resta, se non ancora qualche segnale, di una ideologia sconfitta. Una sconfitta decretata dalla storia, ancora prima che dai tribunali. Una sconfitta ancora, forse non definitiva, se i simboli usati nell'ultimo saluto a Prospero Gallinari volevano dire questo. Il pugno chiuso, l'internazionale riecheggiano e riportano ad altra epoca. Ma forse non sono i simboli che si devono sconfiggere, ma la mentalità di chi ha creduto in un possibile sovvertimento dello Stato con la guerra armata. Sappiamo che Gallinari e gli altri non potevano essere soli. Forse qualcosa di più grande, di più potente dietro di loro. E forse per questo il segreto oggi diventa definitivo. La verità su Moro resterà quella della ricostruzione storica. Prospero porta con sé le sue verità, che non giudichiamo, perché forse non solo lui ha voluto questa conclusione. Bene, abbandoniamo questa pagina dedicata ai funerali. L'ultimo saluto all'ex brigatista Prospero Gallinari e ci occupiamo invece di mala sanità. La Procura ha aperto un'inchiesta sulla morte di un pensionato per soffocamento al Santa Maria Nuova di Reggio. Bloccati i funerali perché il sostituto procuratore ha chiesto l'autopsia. Sentiamo. La Procura di Reggio sta indagando sulla morte per soffocamento del pensionato Gianfranco Bertellini. L'indagine è aperta dalla denuncia del figlio Alessandro che mercoledì sera, dopo aver salutato il padre durante le visite dei familiari e pazienti a Santa Maria Nuova, è stato richiamato appena due ore dopo dai sanitari per il decesso del genitore. Il 71enne è stato trovato privo di sensi nel bagno del reparto. Il personale ospedaliero ha provato a rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare. In gola aveva del prosciutto che i sanitari hanno raccolto in un contenitore mostrato al figlio. Al dolore del quarantenne per la scomparsa del padre è subentrato il bisogno di fare chiarezza su quanto accaduto. L'anziano infatti soffriva di problemi di deglutizione. Il sostituto procuratore Valentina Salvi ha dunque aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia sul corpo del pensionato. Al momento non risultano indagati. L'ex insegnante dell'Istituto per Odonto Tecnici Galvani di Reggio era ricoverato in una casa di cura per i problemi di salute ma quando la situazione peggiorava veniva trasportato in ospedale. Si nutriva con cibi frullati proprio per i problemi che aveva. Il prosciutto nella gola dunque al momento non trova spiegazione. Lo sci alpinista Massimo Ruffini salvato miracolosamente lo ricorderete lo scorso 16 gennaio dalla Slavina che lo ha travolto è stato denunciato dai carabinieri per procurata valanga e quanto hanno ricostruito i carabinieri di Castelnuovo Monti sull'origine della Slavina che quel pomeriggio si è staccata dal versante del monte La Nuda sopra la stazione scistica del Cerreto insieme ad altri due escursionisti raggiunto a quota 1870 metri lo sci alpinista che è anche una guida si sarebbe spinto in un fuoripista dopodiché la valanga rischia fino a 5 anni di carcere. Un insospettabile reggiano quarantenne è stato denunciato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti dalla Polizia Municipale dell'Unione delle Colline Matildiche coordinata dal comandante Lazzaro Fontana. Gli agenti sono risaliti a Reggiano dopo aver pedinato e poi perquisito tre minorenni di quattro castella assidui consumatori. I tre giovanissimi sono stati segnalati alle autorità competenti come assuntori per il quarantenne invece è scattata la denuncia in casa aveva 90 grammi di marijuana ed un altro insospettabile invece è stato arrestato dai carabinieri sempre per spaccio di droga si tratta di un ventenne in casa deteneva una dozzina di grammi di cocaina e 800 euro provento dello spaccio. Truffa agli anziani questa volta è accaduto ad una pensionata ultra ottantenne di Casal Grande la donna è stata raggirata da un uomo che si è presentato sotto casa sua spiegandole di avanzare 4.000 euro dal figlio a seguito dell'acquisto di un'auto usata l'anziana ha dato i soldi al malvivente e questo si è allontanato come se nulla fosse la pensionata ha scoperto il raggiro solo all'arrivo del figlio noi ci fermiamo per un primo stacco pubblicitario a tra poco con le altre notizie Bentornati in studio prima di andare avanti con le notizie e riascoltiamo insieme i principali fatti del giorno le dimissioni del vicepresidente di IREN SPA Luigi Villani e le dimissioni dell'intero CDA di IREN Emilia sono propedeutica al cambiamento all'interno della multi utility diverse centinaia di persone oggi hanno dato l'ultimo saluto a Prospero Gallinari tra i presenti anche molti ex brigatisti tra cui Renato Curcio la procura di Reggio indaga sulla morte di un anziano per soffocamento al Santa Maria Nuova il 71enne aveva problemi di deglutizione trovato morto con in gola del prosciutto lo sci alpinista salvato dalla slavina che lo aveva travolto lo scorso 16 gennaio rischia fino a 5 anni di carcere per gli inquirenti e ha provocato la valanga nella frazione di Arceto di Scandiano la tabaccheria del centro ha eliminato le videoslot per non rovinare economicamente i concittadini da 4 Castella Reggio Emilia sequestrata marijuana in casa di quarantenni insospettabili che spacciavano a dei minorenni a Correggio montano le proteste per le marche da bollo per le richieste dei permessi per girare in zona traffico limitato quando l'etica ha la meglio sui guadagni facili siamo a Arceto dove Max Vignali titolare di una tabaccheria nel centro della frazione ha rinunciato alle slot machine per non vedere i concittadini rovinarsi con il gioco sentiamo stanco di vedere buttare per aria i soldi di tante persone di sua conoscenza alcune delle quali dipendenti dal gioco alle slot machine il titolare della tabaccheria del centro di Arceto frazione di Scandiano Max Vignali ha deciso di eliminare le due macchinette nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato della convenzione decisa dalle associazioni Arci ed Acli che di comune accordo hanno avviato una campagna di sensibilizzazione sul fenomeno delle video slot invitando i circoli per il valore sociale di aggregazione che esprimono a rinunciare ai guadagni anche consistenti delle slot questa volta però la scelta improntata ad una forte manifestazione etica arriva da un privato abbiamo fatto questa scelta di togliere le slot perché la gente non ha senso della misura vede nella speranza di una vincita facile di recuperare in questi momenti di crisi dei soldi a forza di spendere con la speranza di recuperare andava verso dei passivi incredibili e quindi la confidenza che abbiamo magari con certi clienti del paese portava il giocatore a chiedere magari anche dei prestiti nella speranza di poter recuperare purtroppo invece peggiorava sempre la situazione e diventava problematico per noi perché comunque ci impietosivamo davanti a certe situazioni e problematico per il cliente che invece di migliorare e di recuperare i soldi persi peggiorava sempre di più la situazione e adesso ci spostiamo a Correggio proteste per la marca da bollo per le richieste di accesso alla zona traffico limitato ma per andare incontro ai cittadini si cercherà di aumentare il periodo di validità cercando di limitare gli effetti di questa ennesima spesa a carico di famiglie e commercianti Antonio Lecci Fanno discutere a Correggio le nuove norme legate ai permessi per l'accesso alla zona traffico limitato la ZTL del centro storico rilasciate a residenti, operatori economici trasportatori a cura del settore qualità urbana del comune attraverso l'ufficio Mobidi e fra aumenti di tasse e vario di nuove imposte a livello nazionale non è affatto piaciuta ai cittadini l'introduzione obbligatoria della marca da bollo da quasi 15 euro da applicare alla richiesta di permessi un fatto di cui si è discusso pure all'ultimo consiglio comunale l'ulteriore spesa è prevista per ogni singolo permesso uno per ogni targa di veicoli che possono entrare in ZTL esonerati invece le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti come enti, no profito, associazioni anche le richieste di rinnovo vanno presentate in bollo e in caso di cambio autovettura in corso di validità di un permesso sarà invece sufficiente comunicare il nuovo numero di targa e sarà rilasciato un nuovo permesso con stessa scadenza e validità nessun cambiamento invece per quanto riguarda i permessi azzurri per i genitori degli allunni frequentanti le scuole situate in ZTL e quelli temporanei rosa che continueranno a essere rilasciati dall'ufficio relazioni col pubblico e dal comando di polizia municipale locale in merito alla marca da bollo la giunta comunale ha sottolineato in consiglio come non si tratti di un ricavo per il comune e che tale prassi è necessaria in quanto prevista per questo tipo di documento e per andare incontro ai cittadini si sta pensando però di allungare il periodo di validità dei permessi che ora è di tre anni in consiglio è stata inoltre accolta approvata all'unanimità la richiesta avanzata dal capogruppo del PDL Gianluca Nicolini di approvare un regolamento per disciplinare con chiarezza proprio il rilascio dei permessi di circolazione di sosta in centro storico ci fermiamo per un secondo stacco pubblicitario dopo le previsioni meteo e gli appuntamenti restate in nostra compagnia a tra poco il meteo è offerto da Subeltech Energy impiantistica industriale quadri elettrici energie rinnovabili impianti fotovoltaici Subeltech Energy a Piolo di Ligonchio Previsioni meteo per domani domenica 20 gennaio al mattino in pianura cielo molto nuvoloso con pioggia mista a neve sui rilievi molto nuvoloso con nevicate moderate nel pomeriggio in pianura molto nuvoloso con piogge moderate sui rilievi nuvoloso con deboli nevicate dalla sera in pianura coperto con piogge deboli sui rilievi ancora molto nuvoloso con pioggia mista e neve temperature minime del mattino attorno a un grado centigrado massime pomeridiane arrivano fino a 4 gradi centigredi Tili Tricolore Meteo Il meteo è stato offerto da Subeltech Energy impiantistica industriale quadri elettrici energie rinnovabili impianti fotovoltaici Subeltech Energy a Piolo di Ligonchio Prima di passare alla pagina degli appuntamenti riepiloghiamo insieme i principali fatti del giorno Le dimissioni del vicepresidente di IREN SPA Luigi Villani e le dimissioni dell'intero CDA di IREN Emilia sono propedeutica al cambiamento all'interno della multi utility Diverse centinaia di persone oggi hanno dato l'ultimo saluto a Prospero Gallinari tra i presenti anche molti ex brigatisti tra cui Renato Curcio La Procura di Reggio indaga sulla morte di un anziano per soffocamento al Santa Maria Nuova Il 71enne aveva problemi di deglutizione trovato morto con in gola del prosciutto Lo sci alpinista salvato dalla slavina che lo aveva travolto lo scorso 16 gennaio rischia fino a 5 anni di carcere per gli inquirenti ha provocato la valanga Nella frazione di Arceto di Scandiano la tabaccheria del centro ha eliminato le videoslot per non rovinare economicamente i concittadini Da 4 Castella Reggio Emilia sequestrata Mariuana in casa di quarantenni insospettabili che spacciavano a dei minorenni A Correggio montano le proteste per le marche da bollo per le richieste dei permessi per girare in zona traffico limitato Eccoci dunque alla pagina degli appuntamenti per domani domenica al teatro Ariosto di Reggio alle 15.30 la prosa di Giovanna Arrogo con il teatro del Carretto al teatro Vaglia alle 15.30 il barbiere di Siviglia con orchestra e coro dell'Accademia del Teatro alla Scala all'Erberia di Rubiera alle 21 aspettando Godò con Natalino Balasso e Iuri Ferrini al teatro San Prospero alle 16 commedia dialettale spettacoli per bambini e famiglie domani pomeriggio al 900 di Cavriago al teatro di Novellara e al piccolo Orologio di Reggio il telegiornale di Teletricolore termina qui noi vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni buona serata di Novellara di Novellara di Novellara di Novellara Grazie.